La nostra federazione ha superato i 2000 iscritti, quando ho iniziato io eravamo forse una ventina, quindi un bel successo per una disciplina che comunque si richiama al Giappone, alle sue tradizioni, quindi non semplice da comprendere. Noi lavoriamo per svilupparla, a molti aspetti il kendo, la scherma giapponese, uno di questi è l'agonismo, quindi siamo qua per partecipare ai campionati europei e cerchiamo di portare a casa qualche medaglia come ci è già successo in passato.